Ciao Geeku, io sono Giorno e con il video di oggi iniziamo una nuova serie, una nuova playlist, non lo so, comunque gli essenziali. Gli essenziali cosa sono? Sono i capi che ogni ometto di stile che si rispetti dovrebbe avere nel suo armadio. In questo video si parla della parte superiore, maglie, magliette, t-shirt, cazzate varie. Andiamo a vedere Geeku, dai, luce. Al primo posto nella classifica degli essenziali parte superiore non può ovviamente mancare la t-shirt, nulla di stravagante, anzi direi tutto l'opposto. Quindi una t-shirt bella, colore, tinta unita, nero, bianco, nevi, grigio. Gli essenziali li abbini con tutto, sono belle perché se ti stanno bene sono belle, puoi fare la tua propria. Ovvio, questa non è proprio la stagione adatta per far vedere la propria t-shirt perché comunque se vai in giro solo con una t-shirt fa un po' freschino. Poi ti prende l'influenza che sembra coronavirus e poi te ne stai in quarantena e poi... Quindi non riuscirai a sfoggiarla al meglio, infatti sarà quasi sempre nascosta da o una giacchettina o con un'altra cosa che vuoi. Però è da avere, è un capo da avere, è una t-shirt bella che ti stia bene, mi raccomando, ti deve stare bene. L'essenziale numero due è una bella camicia bianca. Ah, una bella camicia bianca, anche questa, ragazzo. Ehi, Kiko, Kiko, te lo dico, te lo dico, aspetta, te lo dico meglio. Mettiamo a fuoco. Kiko, ti deve stare, un guanto deve essere la camicia, chiaro? Un guà, un guà, se non sai come si fa, c'è il video qui, ma ti deve stare un guanto, mi raccomando, eh. Perché la camicia bianca è iconica, la camicia bianca, qualsiasi film ti capiti di guardare. E troverai anche dietro uno mino piccolino controfigura che c'è una camicia bella bianca, una bella Oxford, come si deve. Ma, eh, perché è importante, è importante la camicia bianca, guarda, guarda, qua c'è una camicia bianca, qua c'è una camicia bianca, qua c'è, è difficile, qua c'è un'altra bianca. Eh, 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 ragazzi, le camicia bianche sono importanti, eh. Essenziale numero tre è l'Apolo, l'Apolo è estremamente sottovalutata, perché? Perché dici, John, ma come mai l'Apolo è sottovalutata? Perché l'Apolo, se tu pensi a un uomo con l'Apolo, ti viene fuori questa roba qui. No, questo non è, l'uomo classico con l'Apolo, ah, tra l'altro, mo' di nuovo. Fammi il favore, non, Kiko, fammi il favore, non alzare il colletto dell'Apolo, perché è proprio una roba che, guarda, 90% delle persone lo tira su il colletto dell'Apolo, però ti prego, è una roba che... Mentre l'uomo con l'Apolo che dovrebbe venirti in mente è questo qui. È un'altra roba o sbaglio? È un'altra roba. Quindi dici, ma perché se lui può avere un Apollo così, non posso averla pure io? Eh, eh, infatti, se trovi l'Apolo giusta, mi raccomando, impegnati su... È quello il trucco? È quello il trucco. Ti impegni su cercare quella che vada giusta. Perché non tutte le Polo sono uguali, non tutti i tagli sono uguali, non tutte le misure sono uguali. Vai un bel sabato pomeriggio, fino alle 23, perché sennò qua Conde ci spacca me, spacca... E ti trovi quella giusta per te. Cazzo, le basi. L'essenziale numero 4 è la camicia di flanella. La camicia di flanella, a differenza della t-shirt, è proprio adatta a questa stagione. Perché sopra una t-shirt ti metti una bella camicetta di flanella e stai... Ah, una pacchia. Quando c'è questo tempo che è un po' freddino, che te lo passeresti spesso sotto il piumone, invece no, esci e ti metti una camicia di flanella. Infatti, le camicie di flanella sono fatte generalmente con lana o cotone. Però è bello spesso il tessuto. È comoda, è calda, è morbida, è stilosa, ma... Chicco, vai sui colori più base. Vai su un grigio, su un rosso, su un blu scuro. Quelli sono molto carini, molto carini, molto carini. Queste colorazioni, infatti, sono molto più versatili. Stiamo parlando di essenziali. Tu non puoi prenderti una camicia di flanella giallo-ocra, fluo, che non puoi mettere con niente. Stiamo parlando di essenziali che ti permettano la versatilità. Fontamentale la versatilità. Abbiamo iniziato con una camicia e finiamo con una camicia. Infatti, l'essenziale numero 5 è la camicia casual. Questo tipo di camicia hanno principalmente una grande differenza dalle camicie classiche, ovvero la lunghezza generale. La lunghezza di una camicia casual è inferiore rispetto a quella di una camicia classica. Quella classica è più lunga perché va infilata nei pantaloni. Quella casual non va infilata nei pantaloni. È più corta apposta. È casual. Le basi, etimologia del termine. Etimologia del termine. Infatti, l'errore assolutamente da non fare è quello di portare una camicia classica come se fosse casual. Cioè, cazzo, te ne accorgi che ti arriva alle ginocchia la camicia. Non puoi... Fai due più due e dici, ma come mai è così lunga questa camicia? E molto bene, Kiko, queste erano le tipologie di maglie che dovresti avere nel... Se sei proprio un ometto di stile, dovresti avere nell'armadio. Se non ce l'hai... Ok, io ti dico tutto il mio bene, ma se proprio non vuoi che... Proprio... Lasciamo stare, lasciamo stare. Se il video ti è piaciuto mi fa piacere, se hai imparato qualcosa di nuovo mi fa ancora più piacere. Ci vediamo alla prossima, Kiko. Fai quello che vuoi, stammi bene, mi raccomando. Poco? 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 Grazie a tutti.